Lo ricomincio da qua perché sbadatamente ho toccato il telefono e allora continuo, continuo, così ve ne trovate due, non siete più contenti che poi diventano troppo lunghi. E' la seconda parte, tanto è la seconda parte della rivista, così domani che è sabato, poi c'è domenica, poi lunedì i bambini, molti vanno a scuola, andranno a scuola, io ricordo Camila quando andava a scuola il 23, sempre intorno al 23 di settembre lei andava a scuola ed era bello che andassero il 23 di settembre, sennò chi se li godeva sti figlioli? Poi fa ancora un caldo becco, foraci, io mi auguro che non debbano andare là con le museruole. Allora, cosa vedremo? Vedremo delle maglie, vedremo degli scialli e una bella cartella, mi piace un sacco la cartella, ecco e queste cose vanno fatte con filati leggeri perché una borsa già è un contenitore che riempiremo di qualunque roba. Allora, qui abbiamo un esempio con un filato bello corposo, sfumato, le sfumature le possiamo creare elaborando più filati sottili insieme e poi lo faremo questo gioco di come creare le sfumature. E' un punto carino, è carino anche il fermaglio, si usa, io li uso, non so gli altri come facciano, ma io prima di arrivare ai capotti me ne metto di roba addosso. Qui abbiamo un altro scialle, allora non è niente di difficile, cosa ha di particolare questo scialle che può attrarre e da ricordarselo? L'uso dei colori, ecco, l'uso dei colori, questo punto lo trovo da un sacco di posti, in parte sì, però poi non si è a volte capace di creare una rifinitura, oppure come in questo caso, guardate quanto risulta, a me risulta gradevole questo bordo molto alto dove c'è un passaggio di colori più accesi, ancora un passaggio dello stesso colore di fondo dove cambia completamente il punto e poi la rifinitura che va un po' a ricordare gli archetti dello scialle. A vederlo così sembrerebbe un triangolo, vediamo un po', maxi sciarpa la chiamano, quindi non sarà un triangolo. Boh, scialle sfumato, quindi lo scialle sfumato è questo, che è un rettangolo, e questa me la chiamano maxi sciarpa. Boh, ma a vederla così me ne sembrerebbe un triangolo, ma non lo so, non so cosa dirvi. Qui abbiamo altri esempi, ecco, sapete che a me mi sta attirando tanto questo motivo qua, semplice, semplice, no, di fiorellino, da realizzarsi proprio con un filato irregolare e ciccione, ma tanto mi piace, ma tanto tanto. Ah, volete renderlo prezioso? Avete visto il filato che sto utilizzando per il golf di Camilla, che sarebbe uno dei prodotti che ci siamo scelti come primo acquisto nel sito Mani in Maglia. Allora, adesso ce l'ho qua a fianco, vediamo un po'. Eccolo qua, lui è un soffiato, io lo sto lavorando con i feri del 4,5 e vedete com'è bello, compattino. Ecco, considerate che uno scialle così, sì, col 4,5, ma anche con il 5, questo filato vi darebbe anche retta. Io magari ho anche un bel colorino di lino molto sottile, lino lo metterei ad esempio per dare un po' più di corpo, per tenere un po' più aperta la formellina. Ecco, questo mi piace, questo con un filato un po' grossetto, un po' nervosetto, ma piace, anche con una scelta messa a doppio, una scelta insieme a qualcos'altro. Lui mi piace, mi sa che me lo faccio, non ne ho mai abbastanza di scialli. Qui abbiamo invece un motivo, ecco, che abbiamo visto, sì, però guardate, è sempre carino rivederli. Le frange, lo so che in tanti scialli sono carine le frange, ma io non sopporto di fare le frange, perché mentre faccio le frange piango, perché penso a tutto quel filato ho preso e messo lì. Mentre non piango quando devo fare i nodini alle mie sciarpe e scialli fatte a telaio, perché non posso farne a meno, lì me le trovo. Ecco, e quindi mi piacciono queste idee. Abbiamo ancora uno sciadro, devo dire che ci sono un sacco di belle proposte. Allora, anche questo colore, questo colore sfumato, avete visto, non so se ve lo ricordo, andate a vederli indietro, i miei primi acquisti da mani in maglia. Ho cercato di mettere insieme dei filati che si combinano anche come avanzi, diciamo, una certa coerenza ho voluto mettere insieme, e sono tutti diversi, se poi li andate a vedere. E ho scelto un filato tinto in stampa in 100% merino, molto corposo, bello pulito, netto proprio, e un, com'è quell'altro peloso, di che cos'è? Alpaca, mi pare, sottile, che sono abbinabili benissimo insieme. Ecco, quel filato è molto bello per una realizzazione come questa. Sono delle tonalità calde, autunnali, che ho scelto. Il tinto stampa, che sono difficili da trovarsi, che ci piacciono proprio sempre. Ecco, se non avete mai fatto delle prove o delle cose così, con un filato abbastanza sottile, come potete vedere, è quella che ho scelto io, è un amerino, quindi avrà una sua capacità di tenere tepore, di mantenerlo anche e di garantircelo, insomma, ecco, perché la lana questo fa, no? Con un filato non peloso, per chi non ama i filati pelosi, oppure di aggiungere quel tocco di morbidezza soffice dell'alpaca bracedo, o dei mohair, dei kid silk, dei kid mohair anche più modesti, sempre che non vadano a sovrastare troppo il filato di supporto. Ecco, questo mi piace, anche questo credo che sia una cosa molto carina da avere lì. L'armadio, l'armadietto, un armadietto speciale solo per le sciarpe, le sciarmi, che non ce lo vogliamo fare. Oh, questa maglietta, che se ne vedono di bellissime, per carità, ma se ne vedono anche di un po' tristi, un po' dozzinali, un po' di ciondolose, le fate un po' pesanti, questa mi piace. Diciamo che adesso, poi, con questa possibilità che si ha di acquistare, ad esempio, filati belli, semplici, nella loro manifestazione, ma pregiati, ecco, questa è una maglietta che potrebbe veramente diventare qualcosa di bello bellone, con, ad esempio, un misto cashmere seta, un filato che possiamo doppiarlo, se non lo troviamo proprio proprio così, ce l'ho tanti in rocca, eh, devo dire, tanti. Oddio, ne ho iniziato un po' a scala, eh, non ne ho consumati un po'. Vabbè, comunque, un punto da, cioè, uno spessore da lavorarsi con il 2, anche l'1,75, perché no? Eh, guardate quant'è carina, qui non lo so, forse un po' di più. Però mi piace molto questo bordo, lo trovo proprio aggraziato. Non mi dispiace questa lavorazione in orizzontale, ma trovo veramente carino, carino, vediamo se riesco a farvelo mettere a fuoco. Ecco, vedete un po' lo scollo? La manichina così mi piace, mi piace, perché mi piace o che arriva in quel punto lì, o che sia una tre quarti, ecco, quelle che arrivano al gomito non mi piacciono, a meno che non siano un po' a farfalla. La trovo proprio carina, e guardate che carino che è anche col bordo. Quindi non è stupida sta maglietta, guardatela un po'. Oh, quanto è carina questa gonna, ha quadretti? Eh, l'hanno anche acquisito abbastanza bene. A parte che non si capisce se c'è l'urlo oppure no. Molto carino. Allora, ecco, questa mi fa un po' meno simpatia, non è proprio proprio nelle mie corne, devo dire la verità, non so perché. Questo è il punto, come siamo? Punto stella, che ricorda un po' quel motivo che ci aveva proposto anche la Trudy Crochet. E, non lo so, forse perché è così scollacciosa. Ecco, queste maglie adesso magari cominceremo a mettercele di sera, questa che ci copre un po' di più le spalle, perché è inutile mettersi un peso così per avere tutto questo scollo. Allora, o patiamo il freddo o moriamo dal caldo, le questioni sono due. Eh, non lo so. Ecco, la canapa ci viene in aiuto, perché la canapa è questa fibra da mezza stagione che riesce ad essere termica e traspirante. Oh, qui abbiamo un cappotto, un cappotto di formelle, ma vi dirò, non è mica male come abbinamento di colori, ricorda l'acqua, ricorda la sabbia, ecco che finiamo l'estate senza troppi rattristamenti. Quest'estate è stata, ci è costata tanto di questa estate, è stata un'ammazzata di cose brutte a raffica e di pesi, di caldo. Allora, qui abbiamo un cestino, chissà se ce lo spiegano, ma è da tanto che dico voglio farmi un cestino rifacendo un filato. Mamma mia, quant'è che lo dico? Allora, qui abbiamo un bordo su una spugna morbida, come si vede che è morbida quella spugna. Guardate quanto è carina come idea, questo punto un po' chevron. Sono belline queste tinte, proprio carina qua. Sì, 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 questo verde che riprende un po' quella nappa della borsa. Trovo un po' più carino. Sì, e questi mi sono piaciuti tantissimo, che mi ricordano dei bordi di un manuale sull'uncinetto tunisino che è andato spadito, me lo ricompro col manuale perché è bello. Ha degli esempi bellissimi di bordure per i bagni, per gli asciugamani, le cose per la casa, molto chic. Ecco, queste sono delle belle colorazioni. Abbiamo un filato un po' lucidino. Se abbiamo, ecco, della seta Tussà, insieme a della seta Burette, perché no? Carino, mi piacciono, mi piacciono proprio tanto i colori. Guardate che bello, anche questo, con questo oro, questo lilla e questo rosa delicato al centro. Trovo proprio chic, belli belli. Ma quanto mi piace. Allora, qui abbiamo la cartella. La cartella è proprio una cosa carina, e però il problema è il peso. Una cosa così bisogna stare un po' attenti ai filati che si adoperano. Mi piace perché il filato non è lucido, non è un cordino lucido. Avevo maneggiato dei... non delle fettucce, ma come le avevano chiamate quelli sottili, fettuccini. Erano carini, mi piace. La chiusura delle cartelle le trovo drammbo. E' carino. Sono carine le cose attaccate. Questa mi piace. Ci andrà in giro? Sì. Ecco, con le mie cose sì. Sì, sì, sì. Questa è una borsa che fa per me. Questa è proprio una borsa che fa per me, con queste tasche e così la trovo veramente divertente. Poi una bella tracolla morbida, non pesante, che quando si va in giro con un cane, come andare in giro con i bambini, un po' cammina, un po' te lo prendi in collo, poi c'è da salire, da scendere, al menù, gustigioni, costo caldo e sempre in braccio. Ora è qua che dorme nella cucetta. Carina, ne ho messo un cuscino in più. Appena si entra nel mio ingresso, si vedono scarpe e stivali. La figlia dice, ma un ingresso? E io voglio le cose dove pare a me. È casa mia, amica è casa di lato. Chi entra si adatta al mio stile, alle mie necessità. Non è una casa di rappresentanza. E io come entro, voglio avere tutto quello che mi serve per uscire. Le mie ciabatte, i miei zoccoletti, i miei stivali di gomma, che ne ho due paia. I miei stivali per tutti i giorni. Alcuni li ho tolti, altri no. Tutte le mie scatture. I sandaletti che metto tutti i giorni. Ecco. Che carino questa cassettona. E queste cose li trovo carini. Anche perché in uno stivale si centro con dei calzettoni, in altro no, perché no, non ci sto bene con dei calzettoni spessi. Devo mettere dei calzini sottili. Oppure le calze maglia. Loro mi piacciono, però queste cose qui ce le potrei anche fare. Beh, le celle. Queste sono sempre idee che trovo carine, sono sempre idee che ti permettono di recuperare anche i vasetti vecchi. Ci sono dei vasetti delle confetture che sono proprio carini da recuperare. Ci sono sempre dei bei pensierini. Compriamo i tea light e li mettiamo lì. Mi piacciono, mi piacciono. E dobbiamo andare in giro per legna con la minuscola. Questi cestini li ho visti da anni, mi piacciono un sacco, dico adesso li faccio. Sono carini per le piante, ma sono anche carini come svuota tasche, sono carini anche all'ingresso. Allora, altri copri, ecco, considerate una borsa, ci mettiamo una rubrica, è un porta così così, più la borsa fatta a mano, abbiamo già 7000 kg sulle spalle, però sono carini, questi pacchettini di carta, c'è noi, libri vecchi. Allora, questo è un altro cestino carino, proprio carino, un po', un po', un po' baby, un po' infantile, però un po' ve lo so perché, per trasportare un vasetto. Vediamo un po'. Qui abbiamo le scuole, no, non ve la posso far vedere, basta, abbiamo finito, c'è la pubblicità, ecco qui, del prossimo numero, il 14 ottobre, quindi fra poco, quindi questo è uscito da già da un po', ecco, sì, vabbè, fra poco, fra un mesetto. Ah, le ghirlande, queste mi piacciono, le ghirlande, come si chiamano le, i festoi, come si chiamano queste robe qua? Ditemelo un po'. Vabbè, queste comunque, ad esempio, che sono bellissime, le voglio far, sarebbero belle con la lana sarda, la lana da tappeto. Allora, da Tiger, durante il periodo natalista, ma non so se anche tutto l'anno, potete trovare quei fili di lucine, a batteri, un che lumacona, due, da dove è uscito? Adesso devo sfrattarle? Che vanno dritte, dritte dalle mie piantine, quelle più tenere, che fiuto, che vanno a batterie solari, alcune, e poi ci sono quelle che vanno a batteria. ecco, questa è comunque una bella idea regalo, le potete preparare già voi, cercate di nascondere, prima di cucire, le varie cose, lungo il supporto, la catenella, o quello che vi pare, come supporto, anche un cordoncino, fatto da voi, ecco, sarebbero carine, da cucire, dentro, cioè da far incastrare, le figure, intorno alle lampadine, ai punti luce, ma guardate come è bella, mi piace, questa cosa un po' meno, ma lei tanto, e le, oh santo cielo, guardate un po' le pigne, le carine le pigne, va bene, questo ce lo siamo fatto fuori, vi faccio rivedere la copertina, così ve la ricordate, è lui, quello che abbiamo visto, il prezzo ve lo confermo, sono 6,90 euro, aumentato, 5,90 erano gli altri, settembre, ottobre, non me non dispiace, ci sono delle idee carine, che insieme alle sciure, le potremo rivedere, e con le immagini sotto agli occhi, riusciamo a riflettere di più, anche considerando quello che abbiamo già di materiale, io non lo so, io preferisco le riviste, c'è poco da fare, lo so, costeranno dei soldi, e vabbè, uno spende meno dall'altra parte, insomma, ecco, ciao!